Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere con noi. Finalmente riusciamo a presentare un volume, Antiche Pere dell'Emilia-Romagna, a cura di Silviero Sansavini e Vincenzo Ancarani, con la collaborazione di Luca Donini, Rosella Ghedini ed Elisabetta Landi, realizzato proprio in questi mesi dall'Istituto Beni Culturali in collaborazione con l'Università degli Studi di Bologna, in particolare il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari. Non è la prima volta che noi dell'Istituto collaboriamo con il Dipartimento e con l'Università e in particolare con il professore Silviero Sansavini, che saluto e a cui passerò la parola a breve. Già nel 2017 abbiamo avviato una collaborazione per la realizzazione di un volume dal titolo Il Pomario della Villa, in quel caso parlavamo di mele in questo Dipere e quindi continuiamo diciamo in modo virtuale questo percorso all'interno dei frutti antichi della nostra regione. Ricordo a tutti che questo volume che noi avremmo voluto regalare e distribuire in occasione della presentazione che avevamo pensato per il 25 ottobre al Museo di Villa Smeraldi a San Marino di Bentivoglio, ora è ovviamente in modo obbligatorio distribuito soltanto virtualmente online, c'è la possibilità sul nostro sito, se voi frequentate il nostro sito degli istituti beni culturali, di scaricarlo gratuitamente e speriamo in futuro di poterlo distribuire in modo, in modalità cartaceo ovviamente, alle principali biblioteche della regione, all'università, in modo da diffondere questo bellissimo volume che impareremo a conoscere nel corso di questa presentazione. È una presentazione molto ricca, vedrete, che segue l'andare dell'indice del volume che presenta interventi che passano dalla botanica, da esperti diciamo di tecnologie agroalimentari, a un'attenzione particolare alla cultura gastronomica, alla letteratura, al mito, alla simbologia, passando anche dalla letteratura e anche dalla gastronomia, come ho detto, quindi sarà un percorso che ci accompagnerà in queste due ore. Io avrei dovuto lasciare la parola al nostro presidente, il professor Roberto Balzani, che in questo momento ha dei problemi di connessione, per cui passo direttamente la parola al professor Silviero Sansavini, che riprendendo il titolo del suo intervento insieme a Luca Dondini e Vincenzo Ancarani all'interno del volume, ci parlerà delle antiche pere dell'Emilia-Romagna, un patrimonio da conoscere e valorizzare, il progetto IBC Università di Bologna. A lei, professor Sansavini, la parola e la ringrazio per la partecipazione.